E' arrivata una notizia, un importante suddito di sua mestà la regina d'Inghilterra sta arrivando a Milano. Ho preparato la mia attrezzatura, adesso partiamo e cerchiamo di scovarlo insieme. A tra poco. In fronte, dentro gli arrivi, in aeroporto privato. Questa è la scala privata, dal porto a mezzo. Mi sono infiltrato dentro l'aeroporto privato, adesso mi prendo un caffè, faccio il vago, perché in realtà qua non si potrebbe stare, ti faccio vedere dove sono. E niente, stiamo aspettando, aspettiamo che arrivi il nostro personaggio, lo spieghiamo. Il volo del personaggio che sto cercando è stato spostato e quindi devo uscire da quest'area. Ci sono i van che stanno aspettando questo suddito di sua amistà e tra poco arriva, tra poco arriva. ci sono i miei autori, e comunque i miei autori sono stati a vendarmi. Ampatia. C'è quello? Devo eccra! C'è quello che treno. C'è l'OxS-L acraneo di Milano. Ciò che sono interrotto ad aeroporto privato di Sierde. A verità cosa che visitiamo il corpo. Milano, in alto. David! David! Ciao David! Ciao David!